Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Jukin Next Gen Ragazzi come ogni sabato vi propongo un video random E questo sabato vogliamo andare avanti con la storia dei cavalieri dello zodiaco Nell'ultimo episodio per chi se lo fosse perso Avevamo affrontato Orion l'ultimo dei sette cavalieri di Odino Con Fenix Andromeda e Crystal Ragazzi oggi andremo ad affrontare invece Siria il nemico E vi dice che useremo lo stesso Orion Quindi andiamo subito nella storia Unendo il proprio cosmo a quello dei compagni Pegasus riuscì a sconfiggere l'Orion il più forte tra tutti i cavalieri divini Poco dopo però Pegasus iniziò a udire una musica splendidamente armoniosa Finalmente abbiamo sconfitto tutti i sette cavalieri divini ma Da dove proviene questa musica? Ti avevo detto di non sottolineare i cavalieri dati in Hilda Chi sei? Sono un messaggero del sacro tempio di Nettuno Quindi cento ci fa la prossima saga Il mio nome è Siria della Siria e sono uno dei sette generali di Nettuno Il tempio di Nettuno? Esatto Esatto Atena domina il riamme delle terre messe Ad è quello degli inferi Zeus Quello celeste E il mio signore Nettuno governa su Mario Immagina tu lo sappia Detto ciò per ordine di Nettuno Il mio signore re dei mari Sono qui per Ilda e Orion Nettuno? No impossibile Che ne è stato lui a infilare l'anello di Nibbe lungo al dito di Ilda? Il somma Nettuno rinato in epoca moderna Ambisce a dominare i riamme delle terre messe oltre a quello dei mari Per questo deve sbalzarsi di Atena e del suo santuario Ilda di Asgard era la persona perfetta Per governare la sua ufficio nome di Nettuno sostituendosi ad Atena Vuol dire che la controlla mediante la magia Ilda adorava Asgard più di chiunque altro La sua corruzione a opera di Nettuno è imperdonabile Ah dunque ringrazio la benevolenza di Nettuno voltandogli le spalle Benissimo sponerò la melodia mortale Qui consona ad un traditore come te Apri bene le orecchie Ok ragazzi si parte quindi con Orion contro Siria Alla sfida ottiene almeno il grado A Quindi ragazzi sarà difficile abbattere Perché quando mettono questa sfida Significa che l'avversario è forte Impedisce l'avversario di usare la BB Una mossa speciale E non farti mai atterrare Ok ragazzi proverò a finire queste sfide Vediamo come va lo scontro Inizia lo scontro Via Attenzione ragazzi che subito parta l'attacco Attenzione ragazzi che ci ha subito E allora attacchiamo noi ora Grande Orion Mancato Proviamo ora Beh preso in pieno Proviamo la spada di Odino ragazzi Questa volta a colpire il drago Le ho mancate Attenzione Che è fortissimo Ecco qua Ancora colpito Vediamo se ci riesco Mi ha portato per un attimo E' K.O. Ce l'ho fatta ragazzi K.O. Quasi immediato Ce l'ho fatta Grado S Quindi la prima sfida L'ho completata Almeno penso Una delle tre è sicura Vediamo Ragazzi tutte e tre le sfide subito Completate Alla grande Quante volte devo ripeterlo E' impossibile sfuggire la musica del mio flauta Anche se non avessi orecchie per udirla Sciocco ti sei perforato i timpani di proposito Neppure questo gesto estremo Ti salverà dalla mia sinfonia finale La sento Mi sono perforato i timpani Ma continuo a sentire questa musica maledetta Capparsi le orecchie e prepararsi i timpani Nella musica va ben oltre Perché risuona nella mente Sei finito Muori Orion E' intervinto Pegasus Mu Ah Cosa? Ha perso i cinque sensi E' praticamente morto Per questo è riuscito a muoversi Anche dopo aver udito il mio flauto Siria preparato a morire Dei app Emano un cosmo di proporzioni titaniche Fermati che vuoi fare? Lasciami Orion A Ma il suo è molto più espressivo Orion Addio Asgard adorata Pegasus ti affido Lady Hilda Tornerò in cielo in compagnia dei miei amici E lassù sarà un astro che vedrà su di te Addio Pegasus Addio Cavalieri di Atena Ok ragazzi quindi Abbiamo sconfitto Siria E ora andiamo avanti Ah Siria sapeva soltanto parlare Quanto a voi Cavalieri di Atena Ragazzi non sono riuscito a leggere Cosa? Ormai Atena è spacciata Cosa speri di ottenere? La spada Balmung deve essere mia Considero tutte e sette i zaffiri di Odin Serve solo un ultimo sforzo Appena Atena espirerà Sarà molto presto potrò dominare le lettere emerse A nome di Nettuno Nessuno potrà più ostacolarmi Eccoci qui ragazzi Scontro contro Lady Hilda Scontro finale Allora tieni il grado S Finisci con un ABB E segui un risveglio settimo senso Ragazzi è difficile completare Tutte e tre le sfide Soprattutto l'ultima Comunque ci provo Andiamo nel match Ragazzi eccoci giunti Nello scontro finale Contro Lady Hilda Con l'armatura Dio Dio Attenzione subito partiamo forti con Attenzione qua Ragazzi è forte qui Molto più forte le Dilda Si vede già Vediamo subito di fulmine di Pegasus Ma l'ha schivato Non c'è una spada Ha colpito Ma evita anche questa Qua gli ho evitato la BB ragazzi Allora colpiamo Laura Vediamo di fulmine di Pegasus Colpita Attenzione la BB Le ho fatto la BB ragazzi Non ci sono riuscito a fargli la BB Ho preso in controtempo Guardate che potenza Ma non è stato abbastanza Per sconfiggerla Allora ancora fulmine di Pegasus Che prova a vuoto Come fulmine di Pegasus A vuoto l'ho colpita Quale ho mancata Colpita Colpita ancora Attenzione ragazzi Fulmine di Pegasus No Ancora qui colpita K-O ragazzi Scontro difficilissimo questo Ma ce l'ho fatta Veramente ragazzi Era fortissima Eh sti cazzi Ci va bene come grado Ragazzi era fortissima Non ho risvegliato il settimo senso Però non fa niente ragazzi L'importante che soccitò Battla è stata durissima Quindi ragazzi Scena finale Pegasus E tu Tu sia così destinato Molto bene Se vuoi combattere Fai del tuo meglio Questa spada Può davvero spezzare il sottile Il sottileggio lanciato Contro Hilda Senza ucciderlo ovviamente Cosa? E questo cosmo Sento una voce provenire da questa stessa armatura Che sia Odino Odino io credo in te E giuro che salverò Athena Ecco qua ragazzi Sconfitta Lady Hilda Ah Hilda l'ho attaccata Vediamo che succede Cosmo di Lady Isabel Cosmo di Athena Si sta dissolvendo Hilda risponde Non sono riuscito a salvare Athena Ho condannato il mondo alla ruina Possibile che ti abbia uccisa Odino non mi resta alcuna speranza Lady Isabel Athena morirà Insieme a lei il mondo intero Odino donami la tua forza Perdonami Prendi la mia vita Se lo ritieni Ma salva il mondo E Athena Hilda Potremmo essere ancora in tempo A patto che Le mie preghiere Giungano a Odino Ah il cosmo di Isabel Non si è spento Anzi cresce Cosmo di Athena Si espande Lady Isabel Oh È ancora viva Athena Vegas Simei cavalieri Ho dovuto salvare Impotente ciò Che la magia di Nettuno Mi costrugeva a compiere Chiedo perdono Per tutti i miei crimini Contro di voi E Athena Flare Posso solo immaginare Quanto tu abbia sofferto A causa mia Hilda Sorella Hilda Hilda Hai patito sofferenze Ben più strazianti Delle nostre Adoperati Finché tutto questo Non sia stato In vano Ti chiedo di continuare A difendere La tua spazio Da terra Di Asgard Prometto che lo farò Athena Indossando l'area Libri Varmatura Di Odino Proteggerò Asgard Dal male Orion Lo prometto Anche a te Gli altri Cavalieri Divini Perché ragazzi Qua ci sta dicendo Che dopo una serie Di tante battaglie Abbiamo comunque Finito la saga Praticamente Nel prossimo episodio Ragazzi Andremo ovviamente Nella saga Di Nettuno La terza Saga Di questo gioco Su quattro Pegasus Athena Eh Ah Pegasus Athena Tutta via Athena Venne investita Da una possente Mareggiata Eccatorata Da noi Mico Sono uscito Nettuno Che io so Rapire la Di Athena Eh Vuole molto Capire Senza avere Nel tempo Di recuperare Le forze I Cavaliere Di Athena Favano trascinati In nuovo Conflitto Perfetto Perfetto ragazzi Abbiamo finito Anche La seconda Saga Quella di Asgard E nel prossimo Episodio Andremo ad iniziare Insieme La saga Di Nettuno Come sempre Vi invito a lasciare un like Se questo episodio vi è piaciuto Se volete ragazzi Commentate Condividete il video Se avete fatto Iscrivetevi al canale Qui sotto Come sempre Tenete tutti i miei social network Quindi passate Anche dalle mie pagine Qui da AngeloNi83 Tutto E Ciao Gamers